Lo Sport, in collaborazione con... C'è un solo posto dove trovare tutto per l'edilizia, Sacchi Vittorino, a Mandrogne. Materiali edili, piastrelle, arredobagno, serramenti e un professionale centro del colore con pronta consegna di tinte e smalti personalizzati. Sacchi Vittorino, dillo al tuo vicino. 1800 euro, e questa è la cifra raccolta a favore del piccolo cotolengo Don Orione di Tortona per l'acquisto di presidi medici necessari tutto l'anno ai bambini, dalla 24 ore di pallavolo, che ha visto la partecipazione di 13 formazioni presso il centro polisportivo di Sale. 126 atleti si sono dati battaglia su tre campi, con una formula che ha consentito ad ogni sestetto di disputare tra le 7 e le 8 partite. Hanno aderito alla chermessa anche pallavolisti di alto livello, come Roneda Voxci, ex junior casale, Luca Morchio e Matteo Volpara, impegnati attualmente nella Serie B. Due tornei distinti, uno pro e l'altro amatori, al quale hanno partecipato anche i padroni di casa del Grigio Volley. Nel primo successo dell'Atletico Lioni, nel secondo si sono distinti i ragazzi del Perni Rispondi. Soddisfazioni per la riuscita dell'evento anche dalla responsabile Wisp, pallavolo Nadia Guerci, sostenitrice insieme ad altri sponsor. E anche a Sale, comune ospitante, l'euforia per questo successo di sport e solidarietà era evidente nei volti del sindaco Andrea Pistone e del presidente del Volley Sale Riccardo Rolandin. La presenza di tanti bambini, alcuni provenienti proprio dal piccolo cotolengo Don Morione di Tortona, ha fatto da corollario ad una manifestazione senz'altro ben riuscita. Nel 2018 la detrazione fiscale per la sostituzione degli infissi è stata ridotta al 50%. Gol a seramenti, sino a fine anno, ti garantisce comunque un risparmio del 65%. Vuoi sapere come? 0143 88 29 13 Gol a seramenti, gli specialisti negli infissi. A Silvano d'Orba, località Caraffa e ad Acquiterme, in corso di visione Acqui 27, seramentigollo.com. Aperti anche sabato mattina. L'estate è arrivata al Parco Aquatico Lavagello, che ti aspetta a Castelletto d'Orba e se sei un centro estivo, chiamaci al numero 0143 83 06 91 o scrivici a info-lavagello.it per scoprire il prezzo a te dedicato. Parco Aquatico Lavagello, il divertimento a portata di tutti. Grazie. Grazie.